Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio primo video su Dark Souls, sono nuovo su YouTube Mi chiamo Joby Gamecraft e partiamo Allora Se si carica dai, dai, sbrigati Ok Facciamo nuova partita Criamo, chiamiamolo Chiamiamolo Nome Joby A caso Facciamo Sesso maschio Classe, facciamo Chierico Chierico pellegrino Impugna una mazza e lancia miei regoli curativi Discriminato, un vero unigma Armato soltanto di clava e scudo di legno Pirovante Pirovante della paluda Lancia incantesimi del fuoco a un ascio Ok Stregone della scuola del drago di Vini Vini Spero si lega così Lancia stregoneri Wow Da uno stregoneri non me l'aspettavo che lanciasse stregoneri Vabbè Cacciatore Cacciatore con arco Sa cavarsela in mischia Non pratico di magia Bandito Facciamo un po' cavaliere O discriminato Discriminato Però so che è difficile Vabbè Discriminato Dono Chi è universale Quello lo so Madonna Normale Volto Popolano Capelli Facciamoli All'indietro Con occhi e capelli Facciamoli Neri Personalizziamo un po' i capelli Età Simile Che vuol dire Che senso Che sta facendo No 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 Mettiamolo più su simile Che Giovane o vecchio Molto giovane Giovancuelle Un maschio Più maschio Vai Perfetto Neri Modifica dettagli Sono tese Proce Mamma mia Madò Che starno Vabbè Colore i capelli Più sul rosso Sì vabbè no Facciamolo Tipo bianco Lo vorrei Anche questo Facciamoli blu Scuro 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 Accettiamo il nostro Personaggio Non so però La classe No 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 Vabbè Lasciamoglieline Classe Un guerriero Un cavaliere Vabbè Vai col discriminato Vai sti cazzi Ok Ok ora Io so Poco Il video Oppure ve lo faccio Godere Ok alla fine ho deciso di non farvelo vedere perché era tanto lungo Oh mio dio sono Nudo 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 Così mettiamola a due mani Due mani Vai Guarda io c'ho giocato a Dark soul Tanto tempo fa l'ho finito No Però non mi ricordo manco Come si corre Come si corre Ah ok Con B si corre Perfetto Vediamo se questo me lo ricorda Sì Me lo ricordo Spero che ho tipo tanta stamina Troppa stamina I colpi sono pesanti Sono troppo lenti Per cavolo Vabbè Mamma mia Io sono Carigno Carigno Guarda Che cos'ho sul petto Chichissimo Allora Eeeh Vediamo se c'è qualche oggetto Il giro Allora Questa serie su Dark soul Ho intenzione di portarla E completarla tutta Con le Tutta Trovate tutti gli oggetti Ci provo Poi appena posso Vi porterò anche il DLC Perché lo voglio fare Non l'ho mai fatto Quello quindi Sarà Oh mio dio Capito Va bene Eeeh Corri Corri Alcune cose Piccole cose Me le ricordo Tipo questa qua Che spuntava Il tizio Guardiano Me lo ricordavo Però Poi Poi Proprio piccole cose Lo scudo Di assi Come era No come era così Sì Vai Mazza semplice Vediamo quanto fa Danno fa la mazza semplice No Danno Mazza semplice 87 Ah buona Eeeh Corri BAM Vi shot Attraversiamo la nebbia Sperando non ci sia un boss dietro Ok Ah no Ah giusto No Fammi una cosa Andiamo sotto A aprire Il cancello Questo Cose piccole Me le ricordo Devo trovarmi A più presto Un'armatura Perché tipo Sono troppo Madom Ho dimenticato Che c'era La palla Di cannone Mamma mia Qui Oh Grande Eh Grande un cazzo Appena trovo il serpente Vendo tutto Allora Qua facciamo così Non me ne frega niente Di parlare Di questo stronzo Dammi gli oggetti Vaffanculo Sì Sono un cattivo ragasso Tutututututututututututututu Dammi via una piacesetta A cazzo Vai 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 Oppure ha dato Cento anime L'ho là Quindi Se non ammazzavo Non prendevo Cento anime Cento anime Sai Per line Oh Ce ne voglio una cifra Eeeh la mamamma Oh Si va bene Sto già morendo ed ho appena iniziato Oh Stacci di pippo in cariola eh Ah giusto mi dimentico come si aggancia Mamma mia devo bere subito Oh cazzo Mamma mia Vai andiamoci a due mani qua mi ricordo Si RB Mi ricordo come si faceva Ed eccoci qua il primo boss Come si chiama Non lo so Demon del rifugio Io lo chiamo guardiano perchè mi piace Tanto fuggi Oh Du 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 Mi è saltato addosso Mi è piaciuto un corpo No 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 Vai Oh Mamma mia L'ho fatto più ancora il problema Quando mi è saltato addosso Mamma mia Vabbè Andiamo a farlo così Fullo Le piaschette estus E andiamo Oh mio Qui è Ah Ah giusto Mi ero dimenticato che stavo giocando online Quindi Bene 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 A me A me Non posso Qua sotto Sento qualcosa Non voglio scoprirlo Allora 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 Se non ricordo male Qua A un certo punto Ci devi venire a prendere Un Corvo Un uccello Ah si Infatti Ok Salto il video Perchè sono Come Spero lo sappiate Delle palle assurde Ehm Lo so Probabil Eh Ah si Probabilmente Avrò lasciato delle cose indietro Ma Spero lo sappiate Che dopo Si tornerà indietro E si potrà Non lo so Che stavo dicendo Va bene Ok Nel frattempo Non mi livello Torno umano però Ve lo si Non mi livello Perchè voglio arrivare A tante anime Così mi faccio Ah guarda Quanto sono figo Così Sono fighissimo Proprio Ti è becca 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 Va bene Allora Dove andiamo Io andrei subito No No Ho un'idea Bam Mi livello Mi livello Su forza Tutto su forza Come se ci stanno Anche se ci stanno Va bene Corro Perchè qua Perchè qua mi fanno Il culo E basta Prendo la Svinehander E mi vado A suicidare Oh Tanto Vediamo subito Vediamo subito A quanto si può portare La Svinehander E Come se Come se Faceva Ah ok 24 di forza Intanto che faccio Vedete che bella che è Vediamola subito Da qua Che tipo Pensa una cifra Prendiamo un'umanità E che E Ma Oh Mamma mia Tipo Oh che cazzo è quel coso Come mai Ah si giusto Quando vai all'Ordran Aumentano le fiaschette di 5 Mancano Quanti livelli mi mancano 14 20 quasi 10 livelli Madonna Eh però Non sono diventato umano Ecco la pacca Allora Dopo essere tornati umani Farei una cosa No Di qua Sai che vi dico Sti cazzi Continuiamo Il percorso Nella nostra L'Ordran E appena troviamo un'armatura Mettiamocela Perché siamo nudi E fa un pochetto freddo E baffancina Mamma mia Mamma mia Credo che il fuoco Mi faccia Particolarmente Bua No No E No Non ci posso credere Che cocoglioni Come sono morto Vabbè Andiamo a riprendere Le anime E Riammazziamo Tutti i stronzi Mi hanno Ma Spero Si ma Sei proprio Stupido Certo Ti attacchi Così lenti Mi fai Te Mamma mia Che coio Berry E E Vai Vai Ok Ok Andiamo sotto E andiamo a recuperare Ah no Non dovevo recuperare Le anime Ah bene Ah no L'ho lisciato come Vai Prendiamo l'anima Di non morto Perduta Pugliamoci le fiasche C'è La vita E Ah No Come l'ho lasciato Non ci posso credere Mamma mia Sto video Allora Ok Mi ero dimenticato Di riavviare Nel frattempo Abbiamo superato Quel pezzo là Siamo andati a prendere L'oggetto Che stava sul ponte No Oh Raggi messaggio Attacco imminente Voto 1 Cosa Ah No No Backstep No 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 Non ci credo Devo fargli un backstep Allora Leggiamo un messaggio Qui Cosa Ah Oh Ah Con due mani One shot Perfetto Prova il rotolamento Cosa Maledizione Maledizione Avanti Cosa Boh Mh Mh Vabbè Attraversiamo la nebbia Siamo già A 1212 anime Perfetto Possiamo arrivare a Intanto continuo a trovare Gli anime di non morto Che mi Testa imminente Vabbè Che mi servono Per prendere Anime Gli anime di non morto No Boss No Voglio dire Di entrare qua dentro Vedere che c'è Ok Vediamo Scudo Un pochetto Più forte Del mio Due Più forte Del mio Però Vai Ah Pure quelli Con l'armatura One shot Perfetto Zona sicura Ah Sì Giusto Qua c'è il falò Boss Dove Attenzione Un nemico Temibile Vabbè Io andrei Prima Da quei due Laggiù E Gli farei il culo Così Pam Eeeh Ne abbiamo fatto uno Ma Vai Perfetto Via segreto Avanti Dai Grazie Qua c'era il tizio Questo non mi ricordo ancora E qua C'era il cosetto Parlo Qua Compriamo Questa cosa Me la ricordo E me la dovrò ricordare Sempre Compriamo l'arco Madonna Quanto costi Frecce di legno Quelle che costano di meno Vai E abbiamo zero anima Perché E' una cosa utile Perché Riusciremo Poi Dopo Fammi fare un'altra cosa Prima di fare questo Vedi 200 Vedete 200 Un'unica cosa che prendo Eeeh Tua mamma Spero Spero tu che mi abbia Spero Ah Mi hai dato un'armatura E abbiamo ripreso Mille anime Più o meno Eh Con la minchia Che mi dai un'armatura Double shot No Debolezza Spilungone Spilungone Ci ho capito niente Però Vabbè Vai Debolezza Spilungone Ah Devo prendere una fioschetta Se non muoio Coltello da lancio Perché vado ad andare là Eeeh Culo Cosa c'è? Niente Oh Guardala Provavi a scappare Va bene Io direi che Lo voglio Direi che per questo video è tutto Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi